Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Juve Parma Siamo arrivati a Juve Parma dopo un ritiro estivo Dopo la vittoria della Supercoppa a Pechino contro Napoli 4-2, grandi contestazioni Secondo te contestazioni giuste, contestazioni sbagliate? Ce da dire che Juventus-Napoli a Pechino è stata una partita che ci ha subito tagliato le gambe con quel gol di Cavani Poi la Juventus di Conte è famosa perché non mola mai E quando non mola mai la Juve va avanti, va sopra ed è difficile recuperare i risultati Però quello che si è visto anche contro il Napoli è che la squadra avversaria per quasi 80 minuti ha giocato più che altro sulle gambe Infatti una cosa che è uscita dalle interviste dei giocatori della Juventus è che troppe entrate anche maldestre e non riguardite con un cartino giallo Che poi sono arrivati, c'è stata un'esponsione per Pander, per Zuniga, per Zuniga e poi la Zapparita ovviamente si è messa in scena per la Juve E poi 4-2 abbiamo portato a casa della Coppa Quindi ci siamo presentati e ci presentiamo per il campionato come i favoriti Abbiamo vinto lo scudetto L'anno scorso siamo partiti come neanche considerati Come diceva Conte, lui aveva una biblioteca di Gazzetti in cui la Juve veniva depennata da qualsiasi primo e secondo posto E invece noi da grandi combattenti siamo arrivati a spirito anche di Conte, quindi soprattutto del mister Quindi siamo arrivati a questo Juve Parma ovviamente con questo bellissimo scudetto uscito sulle maglie anche Io guarda durante la partita guardavo più questo scudetto Come sta bene sul nostro campo? Soprattutto Luca con la terza stella Sì, terza stella, non a caso il nostro club si chiama terza stella Per cui noi siamo per i 30 scudetti, 30 minuti sul campo ma anche 30 sul petto Dunque, una partita che ci ha visto diciamo un po' imballati Nel primo tempo alcune occasioni, un rigore sbagliato Un rigore che dal punto di vista di paginare a Cera Peccato che fosse in fuori gioco di Steiner Quindi va bene che Vidal l'abbia sbagliato in modo tale da placare ogni tipo di problemi Perché secondo tempo la Juventus ha ripreso a giocare come giocava l'anno scorso In particolare in un giocatore che non c'era nemmeno l'anno scorso E ti parlo di Asamoah, che secondo me è stato il migliore in campo Grandissimo il suo assist Prima a cercare il gol con Vidal che sporca un pallone, la palla che esce E poi finalmente, tocco vincente, arriva di Steiner Come l'anno scorso, primo gol allo Juventus Stadium Primo gol che apre la stagione E col Parma Una cabala favorevole alla Juve dunque Quindi, di questa partita, chi secondo te è top e flop di questa venda? Due nomi, il top di questa partita? Il top è sicuramente Asamoah Come hai ripetuto tu, è stato l'acquisto perzeccato della stagione Togliendo top player, non top player Asamoah è comunque un giocatore che dà quantità e qualità È una scoperta dell'Udinese E farà sicuramente bene quest'anno Conta fatto bene appunto a su di lui Può essere un rimpiazzo importantissimo in mezzo al campo per Marchizio e Vidal Che sono gli ultimi sindacapisti che fanno tanta regna ma anche tanta qualità Ma Asamoah, qual è la sua dose? Che si è riuscito ad adattare anche nel ruolo di esterno Che non è un ruolo ovviamente suo Ma ha l'intelligenza tattica di poterlo fare Che l'ha dimostrato l'America Che c'è tattica e soprattutto molta forza fisica Molta forza fisica È un giocatore da questo punto di vista eclettico Perché può essere schiato in qualsiasi parte del centro campo Senti ma un flop di questa partita Un flop di questa partita tra me è Buonucci Buonucci purtroppo sta patendo una condizione mentale Dovuta ai vari processi che sta seguendo E purtroppo non è concentrato per tutti i non tenuti durante la partita Secondo me guarda c'è stato proprio un momento nella partita di Buonucci Dove si vede quello che tu stai spiegando giustamente In particolare nel reitero dello stesso errore che ha fatto contro il Napoli su Pander Che anziché buttare la palla magari fuori Sulla rimessa laterale come ci siano a scuola calcio La ributta all'interno Sulla rimessa di nuovo un giocatore che poi è andato in progressione Bazzardi poi riesce a chiudere all'ultimo Però siamo andati di nuovo a rischiare E le sostituzioni? Scusate fatte Perché quando Giovinco si è fatto male è entrato De Ceglie e non Quagliarella Perché non si vuole puntare su Quagliarella? Quagliarella secondo me è un giocatore che sta ai margini Ai margini della visura di Conte Perché purtroppo bisogna dirlo e non bisogna negarlo Da quando è tornato l'infortunio di Parma di un anno e mezzo al sono Non è più Quagliarella che abbiamo conosciuto con Del Neri Un Quagliarella estroso Un Quagliarella bello da vedere Un Quagliarella che faceva pesoni impossibili Un Quagliarella che ti tenera sulla palla Non è tornato con quel giocatore lì Non possiamo andare in tutte le copie Perché un intervento del genere, un'operazione del genere non è mai facile Però purtroppo la Juve ha bisogno di giocatori che abbiano fame Giocatori che abbiano voglia Giocatori che siano al 100% Purtroppo Quagliarella è ancora adesso Non so se è più del 60-70% E viene un po' considerato fuori dai margini Avrà le sue occasioni se rimarrà Però secondo me il cambio De Ceglie È stato dettato anche dal fatto che il ragazzo Ha voglia, ha fame Ha voglia, ha manco Forse è uno che rende, dà E solito eravamo sul 1-0 No, eravamo già sul 2-0 Anche in maniera per chiudere, fare a diga Sicuramente Però voleva arrivare proprio al discorso di Quagliarella E anche perché, visto che è tutta l'estate che si parla Un attaccante, un top player là davanti E non è ancora arrivato E venerdì finisce il calciomercato Iorente, Dzeko, Suarez, Van Persie Tanti nomi A volte anche gettati proprio lì A fare mischia di nomi Ma poi alla fine Chi secondo te potrebbe arrivare? Chi è congeniale al gioco di Conte? Più che altro Allora, secondo me Come hai ripetuto giustamente tu Tanti nomi E quindi tanto fumo e poco a rosso Poi Bisogna fare anche una premessa Non bisogna comprare a caso Come si faceva gli altri anni Allora, io dico che L'acquisto di Cavani Sia il miglior giocatore sulla piazza Per l'ora che potrebbe fare A caso di Conte A caso della Juve E il vero top player L'Oriente può essere un valido sostituto Ma l'Oriente è una scommessa È una sorpresa Non è proprio un giocatore che ti fa Quei 30 ore a stagione Te li fa in Spagna Ma conosciamo le difese spagnole Dzeko è invece un giocatore che Secondo il mio punto di vista Non va bene all'ottica Juve Perché all'ottica Juve Ci sono giocatori Che abbiano grinta Che abbiano voglia di sacrificarsi E tornare in fase difensiva Jovetic potrebbe essere un buon giocatore Non vedo perché Su Jovetic È un giocatore giovane Di ampie promesse E di tanto talento Però scusa se ti interrompo Jovetic non è più una seconda punta Rispetto a una prima? Sì, Jovetic è una seconda punta Come Vucic Come Noe Jovinko Ma Non è neanche Guagliarella Non è neanche Guagliarella Ma L'ottima di Conte Non è quella della prima punta Al vecchio stile Boa La Treseguè Per quello che non si punta su Geco Certo Secondo me il giocatore più forte Che aiuto a prendere E questa è una cosa che Dico io E purtroppo Non si è mai detto È un dispiacere Che Marotta non abbia punta su di lui E Radamir Falcao Della Tentico Madrid Che tra l'altro A Tentico Madrid Che ha ricevuto anche un'offerta Di 54 milioni per Falcao Ha detto di no Ai russi Della russa Per cui bisogna O andare con Un gran gruzzoletto di soldi Perché la casa Precissoria Viene si è fissata 64 milioni Per cui Ma io Ho ancora una suggestione Su un top player A maggio Si era parlato Di un certo Fernando Torres Fernando Torres Che aveva Stitigato Per la dirigenza Chelsea Perché aveva giocato Praticamente nulla Nella caglia di Champions Si è riscattato Poi giocando Un ottimo europeo A mio punto di vista Adesso Stava lasciando Delle buone prestazioni Ma il Chelsea Ha fatto un'offerta A Napoli Per avere Cavani Quindi Che Cavani Sia la chiave Per giocare Torres E provare Magari un'offerta Las Minutes E portarlo Alla Juve Sotto è un giocatore Che può servire Al gioco di Conte Secondo me Torres è un ottimo giocatore Può servire Al modulo della Juve Il discorso è che Bisogna prima Come dici giustamente tu Sbloccare L'affare Cavani Allora Cavani Andasse a Londra Allora Torres Potrebbe liberarsi Come dicevi anche tu Torres arriva Da un momento Negativo Dall'anno scorso Non vuol dire Tutto ciò che lucide Se vince la Champions Va tutto bene Bisogna anche vedere Il tuo minutaggio Se l'anno scorso Drogba ha fatto Tutte le partite Tu sei il suo rimpiazzo E non so quanto tu Possessi Allora Juve Invece Possiamo Permettere Di essere il nostro Il nostro vero top player Ascolta ma Per quanto riguarda Il caso Lucio Lucio Si è infortunato Prima Si dicevano 4 mesi di stop Ricorrere al mercato Da poco Si è recetto Solo 45 giorni Rientrerebbe addirittura A fine settembre Inizio ottobre Per cui Non si dovrebbe Ricorrere Al mercato Però Secondo te Continua a utilizzare Il tuo amico Luca Marrone E qua che torniamo Al discorso Come centrare Difensivo Marrone Mi ha anche piaciuto Veramente tanto In quella posizione Lì L'hanno già provato Se non erro Anche Al trofeo E anche lì L'hanno fatto Un'ottima spavola Per cui Secondo me È un po' Come quei giocatori Che nascono A centrocampo Spostati in difesa Rendono E alla fine Diventano Diventa Il vero ruolo Un po' Come ha fatto Mascherano Del Vancellona Concordo pienamente Io Sono dell'idea Che Lucio E' una brutta tegola Una brutta tegola Verlo fuori Perché E' stato comprato Innanzitutto A zero Ed è un ottimo acquisto Secondo me Punti di vista Perché è un giocatore Che ha sempre vinto E' un giocatore Che ti dà grinta Ti dà cattiveria Può insegnare Tanto ai giovani Ha esperienza Da vincente E può avere tutte Le carte in regola Per poter guidare La difesa della Juve Giustamente Con Barzelli e Chiellini Vanno a formare Un trio Che difficilmente Vedo come Possa essere Arginato Luca Marone È stata una bella Scoperta di Conte Se l'ha portato da Siena Hanno vinto il campionato E in questo centrocampo Dove purtroppo Non può avere grandi spazi Mi era abbassato dietro Mi era abbassato dietro Perché? Perché Luca Ha delle qualità tecniche Indiscusse Lui riesce a fare Impostare l'azione E sta imparando Molto Molto Dal fatto difensivo Nelle chiusure E nella determinazione Però il fatto Che lui giochi Come ultimo Dei tre difensi centrali È stato un fatto Di impostazione Come fosse Il Pirlo Della difesa Tutto parte Da Marone O da Pirlo Dove soltanto Imparare Le chiusure difensive Le diagonali Queste piccole accortezze Qua Ma con la testa che ha Con la fame che ha E penso Come un attore Come Antonio Conte Poi non ci dimentichiamo Di Masi Masi è un altro giocatore Un altro scoperto Dalla Provercelli Tre anni fa Giocava in serie Della Lavagnese Masi E ha fatto un tanto Di qualità Nel giro di due anni e mezzo Masi è già Nel generale nazionale Di David Mangia E crescerà anche lui Sotto gli occhi di Conte Sotto gli occhi di Lucio Sotto gli occhi di Barzagli Anche se E' un proprio Olio D'Europa Scusami Torna a casa Torna a casa Torna a Chiellini Torna a Chiellini Quindi io penso Che Perché dobbiamo acquistare Un giocatore Che poi Sta in panchina Sta in panchina Che non è un titolare Va bene così Però Il discorso Masi E' che Proprio in queste ore E' venuto fuori Che probabilmente Dato che L'infortunio di Lucio Non è così grave O comunque Che la tempo di recupero Non è così grave Potrebbe Potrebbe Andare all'Atalanta Sì In prestito In prestito Oppure in Serie B O addirittura In Genoa Nella Juve Non penso Fossa avere Tutti questi spazi Perché comunque C'è Chiellini C'è Caffer C'è Borun C'è Barzardi C'è Lucio C'è Luca Marrone A questo punto Che mette Anche il rischio Per cui Masi sarebbe Il numero 7 In questa graduatoria E Masi Pensa 3 Per cui Se il ragazzo Se la sente Ovviamente Ha una grandissima Consiglia di crescita Perché Allenarsi con i campioni Non è come allenarsi Con l'energia Paternita Si cresce molto di più E' giovane Ha tempo Per la sua carriera Però Bene così Per quanto riguarda Un altro acquisto Che mi ha impressionato moltissimo Durante Il pre-campionato E' fatto il Pogba Pogba E' anche conosciuto Come il migliore Centrocampista Classe 93 Al mondo Attuale Ho già detto tutto Arriva la Manchester United Ha dato Ha anche carattere Perché Con una pernacchia Perguton Se ne è venuta la Juve Con più pernacchia Con più pernacchia Che arriva Inferrato C'è arrivato il mancetto Una volta arrivato A Vinovo Che questa è stata La sua soluzione migliore La sua idea Di lasciare Uno staff E una squadra Così a vita Come la United Pervenire a Torino E' la mia bianconera Quindi La mia bianconera Lui però è un regista E dovrebbe fare Di cipolli Quindi anche una scelta Molta Perciò A me ricorda Tanto Ultima cosa Cambio in vista Di Di Cambio Del Nodolo Di La formazione Della formazione Chi entra Chi è Secondo te Chiellini Quando dovrebbe entrare Chiellini Dovrebbe essere Pronto Probabilmente Quindi Dovremmo vedere Se chi viene Pronto Mantengo Chi è Chiellini E tolgo Puntroppo Manucci E poi L'ho ripetuto Prima Quindi Lasciando Valor Inca Centra Valor Valor Centra Per valori E poi Vedrai Quanto Cagliere Giovinco Se lo recupera Ti metti dentro Il tuo player Che arriva Se arriva Oppure Uno tra Matri Poi Io Mi augurerei Uno S 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 Il caso Conte Per parlarne Attendiamo Quello che sarà L'edito del terzo grado Dopodiché Potremo parlare Tranquillamente La Juventus Gli avvocati di Conte Sono dell'idea Di chiedere La sospensione Della Squalifica Fino al processo In notale che Il caso Conte Potrò sederti In partina Vedremo Se verrà Raccolta Non è Non è Facile Che questo Accada Anche Visto L'atteggiamento Che Noi non vogliamo aprire Questa polemica Oggi L'apriamo Magari Possivamente Con Più Pendenze In mano Quindi Vi ricordo Ci rivediamo Il 4 Di Settembre E Commenteremo Insieme Al prossimo Ospite Indinese Juventus Il sorteggio Champions Chi vorresti Beccare Chi no Io spererei Di beccare Il paese Germain di Carlo Anche perché Ibra Contro di noi Ha fatto un solo Il gol Ma è niente E poi Si sa Il gol È già finita Già finita E poi si sa Che Ibra In Champions League Non lo rende Per cui È una garanzia Perfetto Quindi ci diamo Il 4 di Settembre Ringrazio Andy E Luca Ti ringrazio E torna presto A trovarci Allora Ci rivediamo A fare Tu mi contesterai Va bene Ci trovate Ci trovate Sempre Su Youtube Su questo Canale E la nostra Pagina Facebook Vedici a cercare Juventuscribe Terzo a stella Settimo Torinese Non c'è più A dire Vincere È l'unica Cosa Che Conte Conte Arrivederci Al prossimo Grazie a tutti